www.feyyaz.tv la casalina del laurentes e del sindaco no del laurentes non ci sono mai 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 un invito perverte la parte del nardo e il sindaco pare che già tanti problemi del sorbre sorbre strada che pagare un marato e io non credo che a oggi della finezione io non credo che a oggi della finezione procedere le diamo il campionato a uno a este o a la che la luce mentre non luce alla ultima al ultimo partito centro campione perché se lo dobbiamo regalar o se lo dobbiamo lasciare lì no l'amore 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 e il mio figlio viene a la Torino a la Juve di Napoli e sappiamo che la Juve fuori casa quando l'ho accusato con la Roma l'ho accusato con la Roma e non l'è la Juve di Torino ricordano la Polito io le chiedono a la Torino e non la peri paura a Vinci e poi nel Campeonato è avuto ancora e non solo venuto non solo venuto per la mattina del passaggio per fare voglio salutare e che sta facendo un grandissimo lavoro e che io ero dietro del cavallo io ero dietro del cavallo io ero dietro del cavallo per fare voglio rainforestare e che io ero dietro del cavallo e che io ero dietro del cavallo che deve chiudere tutte le batte che fa in gol. Penso che Napoli vengono esplicando. Forse oggi deve essere più attento, più costante il gioco, più agressivo. Perché c'è giocatori per andare più in avanti che a differenza. Per quello la difesa adesso soffre. Però soffre perché il Napoli questo di Massacri è un Napoli sicuramente che va meglio in avanti che il retroceso. E lei diceva, Maradona, Maradona, pinche a Cavani o pio di Cavani. Io non mi ricordo, io non mi ricordo che quando stavo, perché era una partita difficile, qualcuno diria come un problema. E questo viene la stava del Napoli. E io mi ricordo che mi ricordo deve pensare nella Juve e le deve far more a la Juve. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.